Quando tutto ormai sembrava sotto controllo. Un'espansione bloccata sul nascere dalle rivolte. Nuove minacce. Albergo porterà la pace nell'impero. In realtà non avevo video programmati per oggi e quindi non sapevo cosa pubblicare. E quindi ho fatto questo. Attila. Total War. La guerra dei separatisti. Prossimamente su Scazzoni di Roma. Probabilmente dopo domani. La Fox non mi ha pagato. La Fox non mi ha pagato. La Fox non mi ha pagato. Grazie a tutti.